Buongiorno a tutti da lascialamanica.com il secondo volume della serie Roberto Light Roberto Extra Light ve lo vado a presentare è ora in vendita su lascialamanica.com e di particolare questa piccola catena di tre libri di Roberto Light scritto ovviamente da Roberto Giobbi il grande cartomago svizzero famoso per aver scritto appunto tutta la serie Card College qui vi spiega però un po' di cartomagia professionale senza destrezza di mano ovvero vi è tutta una serie di effetti spiegati con la chiarezza e con il modo particolare che ha di spiegare le tecniche e gli effetti presentati il buon Roberto Giobbi uno dei migliori scrittori per quanto riguarda appunto la cartomagia qui presenta effetti che non richiedono alcuna abilità di mano ma che riescono in automatico con tecniche estremamente semplici o con procedimenti matematici dunque adeguati a tutti anzi sono spesso e volentieri effetti con le quali io consiglio di iniziare una performance proprio perché riuscendo in automatico non si ha una grossa preoccupazione per quello che riguarda appunto un errore ma in questi casi si va via lisci bisogna concentrarsi soprattutto sulla presentazione quindi si ha un momento inizialmente sia per placare il tremolio delle mani che si ha all'inizio di una performance sia per prendere confidenza con il vostro pubblico dunque bellissimi effetti ben spiegati ottime illustrazioni anche il livello degli effetti non è basso diciamo che Roberto Giobbi tratta sempre di effetti professionali per cui vi consiglio sempre di prendere questi libri perché si impara veramente parecchio da questo grande maestro svizzero alla fine di tutti questi effetti nelle quali possiamo notare anche un quasi dimenticavo la fine di ognuno dove viene spiegato delle piccole finezze delle piccole aggiunte intelligenti fatte dal famoso maestro e alla fine vi sono anche un po' di scritti su come impostare queste esibizioni proprio la struttura delle esibizioni la valutazione dei fenomeni la gestione degli effetti esempi di scaletta ricordo che è molto prezioso questo genere di intermezzi intermezzi che fa sempre Roberto nei suoi libri che spiega non solo la mera tecnica o il semplice gioco ma spesso e volentieri mette anche dei buoni consigli veramente professionali su come comportarsi con il vostro pubblico su come presentare gli effetti e presentare voi stessi dunque secondo bel tomino di effetti automatici e vi lascio tutti i link in descrizione per andarlo ad acquistare presso il nostro store Roberto Extra Light di secondo di Roberto Giobbi vi ringrazio per averci seguito anche oggi mettete un bel mi piace iscrivetevi al mio canale se volete rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità nel campo magico per cui vi saluto vi ringrazio e come sempre alla prossima ciao 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 Grazie per la visione!